Tutto questo finisce, adesso! Non togliere quel pulsante! Dipper, fa un passo indietro. Ti prego non premere quel pulsante, abbi fiducia in me! E perché mai dovrei farlo? Hai rubato materiale radioattivo! Ci hai mentito per tutta l'estate! Insomma, non so neanche chi sei! Posso capire i tuoi dubbi, ma non spegnere quel dispositivo! Per favore, lascia che ti spieghi! Oh no, tenetemi forte! Dipper! Mabel, sbrigati! Spegni tutto! Mabel, non farlo! Ferma! Su, scherzi in prendi! Ti avevo dato un ordine! Scusi, signor Pais, ammesso che sia il suo nome. Ora ho una nuova missione, proteggere i ragazzi! Lasciami andare immediatamente! Fermo! Mabel, premi quel pulsante! Spegni tutto! Non farlo! Fidati di me! Prozio Stan, io non so nemmeno se siamo davvero parenti! Vorrei crederti, ma... Ascolta, ti ricordi che stamattina vi ho detto che dovevo parlarvi? 19 secondi! So che avete sentito delle cose molto brutte sul mio conto e alcune sono vere! Ma dovete credervi, tutto quello che ho fatto aveva un unico scopo! Il bene della famiglia! Mabel, non se mentisse! Quel macchinario potrebbe distruggere l'universo! Usa il cervello! Guardami negli occhi, figliola! Pensi davvero che io sia malvagio? Ti stai ingannando! Premi quel pulsante! Adesso! Mabel, ti prego! 10, 9 Prozio Stan! 6, 5 Io mi fido di te! Mabel, ma che ti ho preso? Adesso dai! 1 Mabel, ma che ti ho preso? Cosa? O meglio, chi è quello? È l'autore dei libri? Mio fratello! È il momento in cui uno di noi sviene! No, di sicuro non sarò io! Che bello! Dopo tutti questi anni di attesa, finalmente ora sei qui! Fratello! Aio! Ma si può sapere perché mi hai colpito? Hai commesso un'azione incredibilmente pericolosa attivando di nuovo il portale! Non hai letto i miei avvertimenti! Erano troppo rompenti! Neanche un grazie per averti salvato da un'altra dimensione dove magari tutti avevano le basette enormi come le tue! Grazie! Ti aspetti sul serio che ti ringrazio dopo quello che hai fatto 30 anni fa! Quello che ho fatto! Razza d'ingrato che non sei altro! Non pensare che ci vada piano con te solo perché sei mio fratello! Ehi, ciao! Sono Mabel! Domandina veloce! Ma che cosa sta succedendo qui? Stan, non mi avevi detto che c'erano dei ragazzini e una specie di enorme castoro senza pelliccia? Bella descrizione! Loro due sono i tuoi parenti, sapientone! Sono i nipoti di Charmy! Io ho una nipotina e un nipotino! Piacere! Si usa ancora salutare in questo modo? Ho vissuto in un'altra dimensione per tanto tempo! Wow! Una stretta di mano a sei dita! E' molto più amichevole delle altre! Tu mi piaci molto! Sei stravagante! Non posso crederci! Tu sei l'autore dei diari! Hai letto i miei diari? Se li ho letti, li conosco praticamente a memoria! E da mesi che sogno di poterti incontrare! Ho talmente tante domande che... Sto per vomitare! No, no! Faccio allarme! Devo resistere! Ragazzo, sarò lieto di chiacchierare con te più tardi! Ma prima, dimmi, Stan! Ci sono state delle falle nella sicurezza! Qualcuno conosce l'esistenza del portale! No, solo noi! E forse l'intero governo degli Stati Uniti! Che cosa?! Ok, ce la faremo! Ci vorrà un po' di tempo prima che ci trovino! Dobbiamo soltanto restare nascosti ed escogitare un piano! A quanto pare passeremo un bel po' di tempo qui sotto! Chi ci racconta la storia del vostro misterioso passato? Sì, anch'io avrei delle domande da farti al riguardo, Stanley! Stanley? Ma scusa, tu ti chiami Stanford? Cosa? Mi hai rubato il nome? E che hai fatto per tutti questi anni, zuccone? Sì, prozio Stan, basta bugie! Ci devi delle spiegazioni che cos'è questo portale e perché ce l'hai tenuto nascosto! E cos'è successo tra te e tuo fratello? Spero che sarà all'altezza della fiction che ho scritto su di lei, altrimenti ne rimarrò molto deluso! Ok, 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 so di avere molte spiegazioni da fornire! È cominciato tutto tanto tempo fa!